Ciao, sono Marco dei negozi Passport. Prima di tutto ragazzi vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nostre novità. Poi se avete voglia potete anche iscrivervi e seguirci sui canali social Instagram e Facebook. Infine vi ricordo che tutti i prodotti che vedete nei nostri video potete tranquillamente acquistarli anche sul nostro store online www.passport.it. Andiamo ora nell'oggetto del nostro video e lasciatemi presentare la nuova nata in casa Brooks, vale a dire Brooks Ghost 15. Parliamo di una calzatura massimo ammortizzamento categoria A3 dove abbiamo un differenziale un drop di 12 mm ed un peso per la versione maschile di 286 grammi invece per la versione femminile un peso di 245 grammi. Andiamo nel dettaglio e vediamo di scoprire assieme quali sono i segreti costruttivi di questa calzatura. Partiamo dalla tomaia. Qui la prima cosa che ci tengo a sottolineare è l'utilizzo del 62,5% di materiali riciclati quindi una calzatura anche ecocompatibile. Detto questo la tramatura della tomaia vuole creare il giusto compromesso, il giusto equilibrio fra contenimento del piede ed un'ottima traspirazione. Questa è data dal fatto di utilizzare una densità, una tramatura appunto di media consistenza che fa sì che il piede sia allo stesso tempo ben contenuto soprattutto sulla zona del collo del piede ma che abbia un ottimo spazio per le dita sull'avampiede senza appunto sacrificare quella che è la traspirabilità e quindi l'evaporazione del sudore dall'interno della tomaia verso l'esterno. Un altro dettaglio da non sottovalutare è l'utilizzo della tecnologia 3D Fit Print realizzata sulla parte mediale della scarpa che serve a dare ulteriore contenimento e stabilità alla tomaia per contenere al meglio il piede. Infine per quanto riguarda la parte tallonare utilizziamo, notiamo anzi l'utilizzo di una conchiglia protettiva abbastanza appunto contenitiva per il tallone senza sacrificare quello che è il comfort per la parte del tallone e del tendine d'Achille e questo grazie a un'imbottitura di media consistenza e molto morbida. La novità interessante che riguarda la realizzazione di questa calzatura Brooks Gloss 15 risiede nell'intersuola infatti i tecnici Brooks su questa scarpa utilizzano la nuova mescola che si chiama DNA Loft V2. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una mescola che rispetto alle versioni precedenti è leggermente più leggera ma allo stesso tempo è più reattiva ma soprattutto più morbida. Questo cosa significa? Significa che in fase di primo impatto ci ha la sensazione di soffice, di molto ammortizzato e questa è una sensazione credetemi davvero piacevole. Il battistrada di Brooks Gloss 15 è un battistrada realizzato con una gomma che ha un'ottima durata all'abrasione, ha come possiamo notare delle linee di flessione che servono ad avere una fluidità e una bella rotondità in fase di transizione tacco punta, lo spessore del battistrada è anche abbastanza appunto spesso, questo fa sì che questa calzatura possa essere utilizzata per molti chilometri anche su terreni particolarmente accidentati. Questo ovviamente non significa che sia una calzatura da trail, va da sé che però con questo tipo di battistrada si possono percorrere strade anche di sestate, strade di campagna senza avere particolari problemi. Detto questo ragazzi a chi possiamo consigliare Brooks Gloss 15? Memory della storia che ha avuto la sorella precedente Gloss 14 possiamo tranquillamente dire che ha una calzatura davvero polivalente e poliedrica, questo perché è una calzatura che grazie alle sue doti di ammortizzamento può essere tranquillamente utilizzata sia per distanze medio corte, i classici 10 chilometri, ma può essere sicuramente apprezzata anche da chi vuole percorrere delle distanze più lunghe, fin anche ad arrivare alla maratona. Per quanto riguarda il ritmo di corsa faccio fatica a dare un consiglio sul ritmo di corsa da utilizzare con questa calzatura, va da sé che può essere apprezzata per podisti più leggeri, per ritmi di corsa più blandi, quindi di allenamento quotidiano e sulle medie distanze, magari per podisti un po' più pesanti con un ritmo di corsa, magari un po' più lento, sopra i 5 al chilometro faccio esempio, può essere utilizzata tranquillamente anche in gara. Infine visto il successo che ha avuto la sorella precedente anche nel panorama dei camminatori possiamo tranquillamente consigliare questa calzatura per chi cerca un prodotto per andare a fare delle belle passeggiate a ritmi anche sostenuti perché quello che sarà apprezzato sicuramente di questa scarpa è il comfort di calzata, la precisione nell'appoggio e nel passo e come si diceva prima le caratteristiche di intersola molto morbida e di battistrada che col suo spessore ci consente di camminare sia su asfalto ma anche su terreni un po' off road senza arrivare ovviamente al limite di quelli che possono essere sentieri montani o prettamente rocciosi. Spero che questo video ragazzi vi sia piaciuto ma soprattutto che vi torni utile per le vostre prossime scelte, vi ricordo che se avete piacere potete acquistare i prodotti che presentiamo nel canale youtube dentro il nostro store online www.passport.it altrimenti se avete voglia potete venirci a trovare nelle nostre sedi di busche o di signoressa. Con questo ragazzi è tutto, seguiteci sul canale youtube e come sempre ciao!